Salve a tutti amici e bentrovati. Seppur non in splendida forma, una figura di alta pressione comunque insiste sul bacino del Mediterraneo e garantisce condizioni di tempo tutto sommato abbastanza tranquillo. La coda di alcune perturbazioni riescono comunque a lambire il nord Italia portando qualche disturbo concentrato essenzialmente sulla fascia alpina, prealpina sanale. Infatti queste sono le zone dove soprattutto nelle ore pomeridiane potrà verificarsi anche qualche isolata acquazzone, qualche temporale. Note di instabilità comunque potrebbero formarsi anche un po' su tutta la catena penninica. Insomma sono quelle situazioni che penalizzano ogni tanto la fascia montuosa nelle ore più calde. Si sviluppano queste nubi a carattere comuliforme che spesso e volentieri possono dare luogo anche ad acquazzone e qualche isolato temporale. Le temperature subiranno un ulteriore lieva aumento nei valori massimi, valori davvero di tutto rispetto per il periodo che andranno superiori alla media stagionale. Per quello che riguarda le 24-48 ore successive continuerà questo trend e diciamo situazione che penalizzerà, continuerà a penalizzare la fascia alpina prealpina. Nel weekend una maggior nuvolosità potrebbe svilupparsi un po' su tutto il nord, poi estendersi a parte anche della fascia adriatica dove potrebbe anche verificarsi qualche nota di instabilità, ma comunque siamo ancora per il momento in un contesto di tempo abbastanza tranquillo. Qualche cambiamento potrebbe intervenire con la nuova settimana ma avremo modo di riparlarne. Per adesso è tutto amici, a più tardi.